Grande successo per lo spettacolo di Maurizio Casagrande che è salito sul palco in piazza San Pacrazio a Prata Sannita con lo spettacolo La musica mi gira intorno, con la live performance l'artista ha ripercorso le canzoni che hanno fatto da cornice alla sua vita coinvolgendo pienamente lo spettatore tra ironia, musica e ricordi. Questo spettacolo che faccio, La musica mi gira intorno, è proprio uno spettacolo in cui racconto che non ho memoria, ma che la musica me la fa tornare, quindi la colonna sonora della vita di ognuno di noi è fatta di canzoni, ognuno poi ha i suoi gusti, non ha nessuna importanza, sicuramente ognuno di noi ha dei motivi, delle armonie che gli ricordano dei momenti e che sono saldate nell'anima e quindi la musica diventa un pezzo tipo osso. Dopo lo show del versatile e poliedrico artista Francesco Cicchela, l'incontro tematico sulle aree interne e lo spettacolo di Maurizio Casagrande, Naturarte 2021 prosegue il suo cammino culturale e naturalistico il tutto finalizzato alla promozione del territorio attraverso la cultura, la storia, il paesaggio e la natura come ben evidenziato ai nostri microfoni dal sindaco di Pratasannita Damiano De Rosa. Questo progetto Naturarte che è finanziato appunto con questi fondi POC rappresentano una grandissima opportunità per piccole realtà come quella di Pratasannita proprio perché consentono di esportare al di fuori dei confini strettamente cittadini tutto ciò che di bello c'è nel nostro paese, nei nostri paesi. È un percorso che parte da Pratasannita, farà tappa a Capriati al Volturno per andare poi ad Ailano anzi io ringrazio gli amici sindaci che mi hanno dato fiducia facendo Pratasannita capofila di questo progetto rappresenta sicuramente una testimonianza di un momento impegnativo ma che sta avendo un grandissimo successo grazie a tutti